I nominati Brouman, Cesar Isidor e Cornu Prosper Napoléon comparivano davanti alla corte d'assise della Senna Inferiore sotto l'accusa di tentato omicidio per immersione forzata nella persona della signora Brouman, legittima sposa del primo imputato. I due imputati sono seduti l'uno accanto all'altro sul tradizionale banco. Sono due contadini. Il primo è basso, grosso, con le braccia corte, le gambe corte, la testa tonda, rossa e piena di bitorsoli, plantata direttamente sul busto, anch'esso tondo e corto, senza un'ombra di collo. È allevatore di porci e abita a Cacheville-Lagoupil, cantone di Cricquetot. Cornu Prosper Napoléon è magro, di media statura, con delle braccia smisurate. Ha la testa sbilenca, la macella storta ed è strabico. Un camiciotto turchino lungo come una camicia da notte gli arriva fino alle ginocchia. I capelli grigiastri, radi incollati sul cranio, danno al suo volto un aspetto logoro, sporco, devastato, davvero disgustoso. È soprannominato il parroco, perché sa imitare alla perfezione i canti ecclesiastici e perfino il suono dell'organo. Quest'abilità attira nella sua taverna, è infatti oste a Cricquetot, un gran numero di clienti, che preferiscono la messa di Cornu alla messa del buon Dio. La signora Brouman, seduta al banco dei testimoni, è una contadina magra, che sembra sempre addormentata. Se ne sta immobile, con le mani incrociate sulle ginocchia, lo sguardo fisso, l'aria ebete. Il presidente continua l'interrogatorio. — Allora, signora Brouman, allora, signora Brouman, sono entrati in casa vostra e vi hanno buttata in un barile pieno d'acqua. Raccontateci l'accaduto dettagliatamente. Alzatevi. La donna si alza, pare alta come l'albero di una nave, con la cuffia che le ricopre la testa con una bianca calotta. Parla con voce stracicata. Stavo sgusciando i fagioli. Eccoli che entrano. Io mi dico, ma che hanno? Non sono normali. Hanno l'aria maliziosa. Mi guardavano così, di traverso, soprattutto con lui, che è strabico. Non mi piace vederli insieme, perché quando sono i due combinano solo guai. Dico, cosa andate cercando da me? Loro non rispondono. Io avevo una certa diffidenza. L'imputato Brouman interrompe vivacemente la deposizione e dichiara. Ero sbronzo. Allora Cornu, voltandosi verso il complice, dice con voce profonda, come le note di un organo. Di che eravamo sbronzi tutti e due, e non dirai una bugia. Il presidente, con severità. Volete dire che eravate ubriachi? Brouman, non è il caso di chiederlo. Cornu, può capitare a tutti. Il presidente alla vittima. Continuate la deposizione, signora Brouman. Allora, ecco che Brouman mi dice, vuoi guadagnare uno scudo? Certo, dico io, dato che uno scudo non si trova mica per strada. Allora lui mi dice, apri gli occhi e guarda me, e va a prendere il grosso barile scoperchiato che sta sotto la grondaia dell'angolo. Poi lo rovescia, poi lo porta in cucina, poi lo pianta lì, dritto, nel mezzo, e poi mi dice, va a pigliare l'acqua fino a che non sarà pieno. Allora io vado allo stagno con due secchi, e porto acqua, e poi ancora acqua per un'ora buona, perché quel barile era grosso come un tino, con rispetto parlando, signor presidente. Nel frattempo Brouman e Cornu bevevano un bicchiere, poi un altro, e poi un altro ancora. Finiscono di ubriacarsi insieme, tanto che io dico, siete voi che siete pieni, più pieni di questo barile. E Brouman mi risponde, non ti preoccupare, fa il tuo lavoro, verrà il tuo turno, ad ognuno il suo. Non dò peso alle sue parole, visto che ero a sbronzo. Quando il barile fu pieno fino all'orlo, dissi, ecco fatto. Ecco allora che Cornu mi dà uno scudo. Non Brouman, Cornu, è Cornu che me l'ha dato. E Brouman mi dice, ti vuoi guadagnare un altro scudo? Sì, dico io, visto che non sono abituata ai regali come questo. Allora lui mi dice, spogliati. Mi devo spogliare? Sì, mi dice. E fino a dove vuoi che mi spogli? Mi dice, se ti vergogni, ti enti la camicia, ci basta così. Uno scudo è uno scudo. E allora ecco che mi spoglio. Ma non mi andava troppo di spogliarmi davanti a quei due buoni a nulla. Mi tolgo la cuffia, il giacchetto, la gonnella, gli zoccoli. Brouman mi dice, ti enti pure le calze. Siamo brave persone. E Cornu replica, siamo brave persone. Dunque eccomi ridotta quasi come nostra madre Eva. Loro si alzano. Non si tenevano più in piedi, tanto erano sbronzi. Con rispetto parlando, signor presidente. Io mi dico, cos'è che stanno macchinando? E Brouman dice, ci siamo. Cornu dice, ci siamo. E all'improvviso mi prendono. Brouman per la testa e Cornu per i piedi. Come se fossi, che so io, delle lenzuola di bucato. E io comincio a urlare, spaventata. Brouman mi dice, sta sita, disgraziata. E mi tirano su e mi ficcano nel barile che era pieno d'acqua, che mi si è tutto rimescolato il sangue e mi sono gelata fino alle budella. Brouman dice, basta così. Cornu dice, basta. Brouman dice, la testa è fuori. Anche quella conta. Cornu dice, mettici la testa. E Brouman mi spinge la testa e quasi mi volesse affogare. E l'acqua mi entra dal naso. E io vedevo già il paradiso. E lui spinge. E io vado sotto. Poi deve essersi spaventato perché mi tira fuori e mi dice, vatti ad asciugare. Io me ne scappo. E me ne vado di corsa dal parroco, che mi presta una sottana della serva, visto che io ero come Dio ma fatta. E va a cercare Mastro Scicò, la guardia campestre, che se ne va a Scicchetto a cercare i gendarmi che mi accompagnano a casa. E troviamo Brouman e Cornu che se le davano di santa ragione. Brouman urlava, non è vero. Ti dico che ce n'è almeno un metro cubo. È il sistema che non funziona. Cornu urlava, quattro secchi non fanno nemmeno mezzo metro cubo. Non c'è niente da fare. Niente di più. Il brigadiere li acchiappa tutti e due. Non sa più niente. Si sedette. Il pubblico rideva. I giurati stupiti si guardavano. Il presidente disse, imputato Cornu, voi sembrate l'istigatore di questa infame macchinazione. Spiegatevi. Cornu a sua volta si alzò. Signor presidente, eravamo sbronzi. Il presidente replicò con gravità. Lo sappiamo. Continuate. Subito. Allora Brouman venne alla mia bottega verso le nove e si fece servire due bicchierini di acquavite e mi disse, se ne è anche per te, Cornu. Mi metto al sedere di faccia a lui e bevo e per gentilezza ne offro un altro. E allora lui ha ripetuto e io pure e così di bicchierino in bicchierino verso mezzogiorno eravamo fradici. Allora Brouman si mette a piangere. Mi commuovo e chiedo che cos'ha. Lui mi dice. Mi servono mille franchi per giovedì. A questo io mi raffreddo, voi capite. E mi propone a bruciapelo. Ti vendo mia moglie. Allo sbronzo e sono vedovo. Capirete che il fatto mi mette in agitazione. Io la conoscevo, sua moglie. Ma una donna è sempre una donna. Non è vero? Gli chiedo. A quanto me la vendi? Lui ci pensa o meglio fa finta. Quando uno ha bevuto non si capisce e mi risponde. Te la vendo al metro cubo. Non mi stupisco, visto che ero sbronzo quanto lui e che di metri cubi me ne intendo nel mio mestiere. Un metro cubo fa mille litri. Mi andava bene. Restava da discutere il prezzo. Tutto dipende dal conquibus. Gli dico. Quanto al metro cubo? Lui risponde. Duemila franchi. Faccio un salto come un coniglio. Poi penso che una donna non deve misurare più di trecento litri. Dico lo stesso. È troppo caro. Lui risponde. A meno non posso. Ci perderai. Capirete. Non si vendono maiali per niente. Uno conosce il suo mestiere. Ma se lui è furbo come mercante di lardo, io sono furbo due volte, dato quel che vendo. Dunque gli dico. Se fosse nuova, non dico di no. Ma l'hai usata, non è vero. Dunque è di seconda mano. Ti do mille cinquecento franchi al metro cubo. Non un soldo di più. Ti va? Lui risponde. Va bene. Qua la mano. Ci diamo la mano e ci avviamo a brazzetto. Nella vita bisogna aiutarsi. Ma mi viene un dubbio. E come farai a misurarla, dato che lei non è liquida? Allora lui mi spiega non senza difficoltà, perché era sbronzo, la sua idea. Prendo un barile. Lo riempio d'acqua a rasibus. Ce la metto dentro. Tutta l'acqua che uscirà la misuriamo. E quello è il conto. Gli dico. Va bene, ho capito, ma l'acqua che esce con la via, come farai a riprenderla? Allora mi dà dello scemo e mi spiega che basta riempire il barile dell'acqua mancante una volta che sua moglie sarà uscita. Tutta l'acqua che sarà rimessa dentro sarà la misura. Io calcolo dieci secchi, cioè un metro cubo. Non è poi tanto stupido a quell'animale là, nemmeno quando ha bevuto. Per farla breve, eccoci a casa sua. E io posso vedere la padrona. Non è una bella donna. Tutti lo possono vedere, visto che è qui. Ma mi dico, sono stato ingannato. Ma che importa? Quel che conta è che, bella o brutta, la sua funzione la fa lo stesso. Non è vero, signor Presidente? E poi vedo che è secca come un chiodo. Mi dico. Non arriva a 400 litri. Me ne intendo, dato che lavoro nel liquido. L'operazione ve l'ha raccontata lei. Ne ho lasciato pure le calze e la camicia, rimettendoci. Quando fu tutto fatto, eccola che se ne scappa. Dico. Attento Brumain, se ne scappa. Non aver paura, dice lui. La riprenderemo sempre. Deve pur tornare a dormire. Ma andiamo a misurare la mancanza. Misuriamo. Nemmeno quattro secchi. L'imputato si mise a ridere con tanta insistenza che un gendarme fu costretto a battergli sulla schiena. Calmato si riprende. Per farla breve, Brumain dichiara. Niente di fatto. Non basta. Io urlo. Lui urla. Io sbraito. Lui picchia. Io pesto. E va avanti fino al giudizio universale, poiché eravamo sbronzi tutti e due. Poi ecco che arrivano i gendarmi. Ci acchiappano, ci ammanettano. E via in prigione. Chiedo i danni. Si sedette. Brumain confermò punto per punto la dichiarazione del suo complice. I giurati si ritirarono per deliberare, interdetti e stupefatti. Tornarono dopo un'ora e assolsero i due imputati con una severa munizione sulla maestà del matrimonio, stabilendo i limiti precisi delle transazioni commerciali. Brumain si avviò al domicilio coniugale insieme alla sposa. Cornu tornò al suo commercio. Grazie a tutti.